Protezione civile, Cora Immacolato di Maria e Don Bosco Formia Udv. Ancora una volta la collaborazione con le tante belle ricchezze che sono nel territorio. Abbiamo i lettini della Croce Rossa ancora a disposizione. Lavora per far rendere Formia città accogliente e soprattutto, verrebbe da dire, interagente. Abbiamo fatto l'incontro con le Fionae, non si tratta di integrare ma di interagire con coloro che passano e che ci danno una mano per tanti lavori che purtroppo noi formiani non sempre vogliamo fare. E quindi, tirata, finalmente siamo pronti per rimettere e risistemare la nostra tenda dell'accoglienza qui sul sagrato Don Bosco. È un anno, il 24 dicembre scorso, abbiamo fatto le corse per garantire l'accoglienza per quella che le istituzioni chiamano emergenza freddo, ma la chiamano solo. Mentre giovedì pomeriggio faremo una conferenza stampa per avviare un discorso nel territorio con i nostri volontari. E sì, siamo stretti, ma c'è sempre un posto anche per te che passi. Parola di Gesù. Ecco qua. Stiamo svuotando la tenda che, in modo tale che grazie, la riporteremo un po' più avanti e lavoreremo bene. E così, stiamo preparando tutto quanto, è ripulita la tenda, dovremmo scostare il climatizzatore. Stanno dando una mano ai ragazzi così, ogni tanto un po' di pulizia. L'hanno fatta, non gli dà bagno, le docce bagni. Stiamo finendo di sistemare. E qui purtroppo ci si arrangia un po' alla buona.